Ciao, come vi chiamate? Ciao, io sono Elena. Io sono Pietro. E siamo i tecchieri Euridice. Perché avete scelto questo nome? Eh, perché un po' come Orfeo che canta per Euridice, noi proviamo a cantare anche noi. Sì, in realtà eravamo a una festa ed è uscito questo nome a caso e poi ci abbiamo trovato un significato dopo. Sì, è il vostro primo singolo che anticipa un nuovo lavoro discografico. Com'è nato? Sì, è nato riflettendo su una storia d'amore che però inizialmente doveva essere tenuta un po' segreta e quindi si tentava di zittirla un po'. E quindi è nata questa canzone che fa un po' riferimento al cercare di tenere tutto un po' nascosto e silenzioso. Sì, diciamo che in realtà Elena mi ha mandato il pezzo e io ho detto bomba, facciamolo e poi l'abbiamo fatto. Quindi l'idea è stata di Elena? Sì, diciamo la prima bozza del pezzo è stata scritta da me e poi ovviamente io e Pietro ci mandiamo sempre le canzoni come note vocali e poi ci diciamo cosa sistemare, cosa migliorare e le mettiamo a posto insieme. Sì, esatto. Questa però era bella, questa era bella, già così. E perché chiamarlo come un suono nomatopeico? Perché non c'è niente che esprima meglio il silenzio che shh. Sì, e poi secondo me può essere un bel titolo abbastanza innovativo e catchy, diciamo. È una cosa che magari all'inizio un po' ti confonde ma poi può gasarti, diciamo, ti può piacere. E cos'è per voi il silenzio? Che domanda difficile. Il silenzio è una cosa scomoda, è una cosa a cui noi non siamo abituati ma con la quale prima o poi dobbiamo fare i conti perché è una cosa essenziale perché se non hai il silenzio non riesci ad ascoltare te stesso di cosa hai bisogno. Sì, in realtà per me il silenzio è più un luogo. Cioè è una cosa che mi piace molto perché è un po' un posto dove riesco un po' a fare i conti con me stesso e a capire chi sono. Cosa ci dobbiamo aspettare dai Tecchiaruri, dice, per i prossimi mesi? Allora, per i prossimi mesi bisogna aspettarsi tante nuove canzoni e si spera al prima possibile anche un po' di concerti. Sì, usciranno un po' di tracce nuove e speriamo di portarle live quando si potrà per far vedere a tutti com'è il nostro progetto. Ci fate ascoltare un pezzetto del brano? Ok, vai Pino, vai prima tu. Fai gli sogni onomatopeici. Cuore, fai troppo rumore, ti metto sotto le coperte per attutire. Dai, brava, mi sei piaciuta, così va bene. Un saluto a Social Artist. Ciao Social Artist, grazie mille per questa intervista, molto bella. Ciao, un abbraccio. Sto bloccato. No, va bene, ok, io faccio il suono. Ok, tu fai il suono. Cuore, fai troppo rumore. L'hai già fatto? Ah, ops, c'è un po' di latenza, mi sa, perché mi ho visto tutti a scatti. Aspetta, rifacciamo, rifacciamo. Riproviamo, riproviamo, riproviamo. Cuore, fai troppo rumore, ti metto sotto le coperte per attutire.